da qua siete veramente fantastici questo prato è la migliore risposta a tutti quei giornalisti di regime che fino a un anno fa ci davano per molti questa è la risposta della Lega la Lega c'è, la Lega combatte la Lega non muore mai in questo ultimo anno abbiamo affrontato tante battaglie abbiamo vinto in territori che erano considerati inespugnabili abbiamo fatto dei risultati storici e per questo come giovane padano ringrazio i militanti ma ringrazio soprattutto il nostro segretario federale Matteo Salvini che ci sta dando la speranza e come giovani gli renderemo sempre omaggio e lo seguiremo sempre perché è il nostro punto di riferimento come commissario dei giovani padani è doveroso ricordare però una ragazza che l'anno scorso in un tragico incidente stradale scomparsa una ragazza che per noi è un punto di riferimento per l'entusiasmo, l'impegno, il cuore che ci metteva per la Lega e per i giovani padani ciao Vittoria combatti sempre in mezzo a noi perché per noi rimani e rimarrai sempre la nostra luce come giovani padani uno dei punti e dei temi nevralgici che dobbiamo affrontare è il tema del lavoro oggi il 27% dei giovani sono disoccupati un giovane su due non ha il posto di lavoro e i principali artefici di questo disastro sono lo Stato italiano che noi combattiamo e combatteremo sempre se è ben chiaro come giovani padani lo Stato italiano per noi è un nemico uno Stato italiano che ci ruba 130 miliardi di euro all'anno e la sola Lombardia 70 miliardi e quei soldi li investe per accogliere gli immigrati clandestini e mette sotto i ponti e in mezzo alla strada i nostri giovani noi stiamo con i nostri giovani vaffanculo agli immigrati clandestini però l'altro nemico è Bruxelles è l'Europa è un'istituzione governata da quattro tecnocrati bavosi che ci impongono quello che dobbiamo fare e ci tengono legati ma nei piedi a una maneta sbagliata a una moneta che non ci sta dando più futuro noi combattiamo e combatteremo sempre l'euro e chiediamo di uscire dall'euro domani mattina il nostro obiettivo è quello di smontare quel modello di società che ci vede omologati al pensiero unico che vede nella difesa dell'identità non un punto di rinforza ma uno svantaggio noi siamo e saremo sempre per la nostra identità e su questa battaglia non intendiamo arretrare di un millimetro altro tema da affrontare come giovani padani è il tema della scuola la scuola va completamente rinnovata la scuola deve servire per educare bisogna ritornare alla scuola dei mestieri per incentivare i giovani a trovare un posto di lavoro bisogna cambiare la didattica perché è vecchia, è vetusta i programmi che si studiano oggi si studiavano negli anni 30 serve l'inglese serve saper utilizzare il computer oggi i nostri giovani non sono competitivi sul mercato del lavoro e come giovani padani faremo una proposta, una riforma totale della scuola che offriremo al nostro segretario federale come alternativa di governo su questo tema e poi l'università e su questo punto bisogna essere chiari io sono per abolire domani mattina gli ordini professionali ma per un motivo semplice perché non è giusto che un avvocato uno studente che vuole diventare un commercialista o un dottore per superare l'esame d'estato debba andare a Brindisi a Palermo a Reggio Calabria perché a Milano e Pavia non si supera mai non siamo studenti di serie B noi vogliamo avere la stessa dignità degli altri però come giovani bisogna evolvere il nostro messaggio visto che il messaggio della Lega il messaggio di Matteo Salvini si è evoluto noi dobbiamo fare uno sforzo ed evolvere anche il nostro perciò da questo palco lancio una sfida una sfida difficile ma è una partita che mi voglio giocare a settembre faremo un'assemblea federale come giovani dove rifaremo un messaggio politico rifaremo uno statuto rifaremo un regolamento perché anche i giovani si devono ammodernare e devono tornare a combattere per la libertà del proprio popolo e attenzione attenzione un messaggio chiaro noi come giovani lottiamo e lotteremo sempre per quell'obiettivo che è stato prefissato da vent'anni e non intendiamo fare un passo indietro noi lottiamo e lotteremo sempre per la libertà della nostra terra e per l'indipendenza dalla Padania viva la Lega viva Matteo Salvini e viva Giovani Padani